Sono bastati 4 giorni di riprese, 9 località toccate per capire che la produzione di We Are Happy from Cilento si muove su dei livelli qualitativi che il pubblico non poteva immaginare. L'agenzia artproject.it sta sfoderando tutti i suoi mezzi per il portale www.visitcilento.com realizzando il primo grande progetto indipendente di promozione turistica per l'intero territorio del Cilento, Diano e Alburni, organizzato con mezzi e tecniche professionali. Siamo in viaggio in tutto il Cilento e Vallo di Diano per trasmettere al mondo il sorriso di un territorio pieno di emozioni, dichiara lo staff di artproject.it. È incredibile l'entusiasmo che abbiamo raccolto in questi primi giorni di riprese, che ci avvolge e ci carica. L'avventura della troupe continua per altri 10 giorni e non immaginiamo che coinvolgimento possa attenderci. Ed effettivamente nei giorni dal 1 al 5 maggio alcune località sono state rimandate causa maltempo, le magliette colorate di We Are Happy from Cilento hanno spopolato tra Castellabate e Acciaroli, Casalvelino, Castelnuovo e Ascea, Padula e Tegiano. Ad indossarle ragazzi adulti presi dall'entusiasmo della troupe che tra Seticam, puntate sulle persone riprese, camera car per riprendere ape calessini e vespe d'epoca, riprese aeree con droni e radiocomandati, hanno regalato a questi borghi esperienze cinematografiche. Il diario fotografico delle riprese che stiamo pubblicando sulla pagina Facebook di Visit Cilento di Chiara Lo Staff è inoltre un'incredibile pubblicità turistica su tutte le località che tocchiamo, mostrandone panorami e dettagli approfondibili direttamente sulle schede informative presenti sul nostro portale turistico. Altre dieci giorni di viaggio attendono il termine delle riprese per il video che verrà diffuso online a inizio giugno e nei mesi seguenti verrà promozionato a livello mondiale per promuovere il turismo nell'intero territorio. Tutte le date sono leggibili su blog.visitecilento.com. Sulla pagina Facebook è disponibile il diario di viaggio, aggiornato giorno per giorno con le immagini del backstage. Vi ricordiamo che We Are Happy From Cilento, tributo a Farrell Williams, è incluso nel progetto mondiale We Are Happy From, che coinvolge località da tutto il mondo. Tramite esso visitcilento.com vuol far conoscere il Cilento tramite il sorriso di chi lo ama, cioè dei suoi abitanti e dei turisti che lo popolano. Le riprese effettuate dalla troupe in questo viaggio confluiranno anche nella produzione di un secondo video emozionale per pubblicizzare il turismo nel Cilento